LUNA NUOVA Cos'è questo? Non l'ho mai visto prima d'ora. È un'unità modificata senza proprietario. Un'unità senza secondo protocollo. Trovati un altro per gestire questo casino. Sto indagando su delle modifiche eseguite su due unità. Una macchina che modifica se stessa è un concetto molto complesso. L'autoriparazione implica una qualche idea di coscienza. Per favore, signore. Per favore, signore. Mi fissava. L'ho sparato perché sembrava... Vivo. Sai che succede quando si automodificano? Due di loro cercano di modificarne un terzo. Poi il miracolo sparisce e ha inizio l'epidemia. Che sta succedendo? Se vuoi sopravvivere, devi restare con noi. Chi altro ne ha conoscenza? Trovalo e riportalo qui. Se torniamo nella città, moriremo. Per morire, prima dovete essere vivi. Tu sei solo una macchina. Solo una macchina? È come dire che tu sei solo una scimmia. sia solo una manchina. Grazie a tutti.